La riunione in prefettura ha partecipato il mio assessore che ho parlato prima e dopo la riunione e stiamo vedendo cosa fare iniziando dalla presenza dei nuclei familiari ucraini già presenti nella città di Vallefoglia per capire bene le procedure, diciamo che il Ministero dell'Interno attraverso le prefetture sta mettendo in campo se sono rifugiati o se sono ospiti come turisti, anche quello è importante secondo luogo stiamo attivando tutto il volontariato, diciamo la protezione civile, gli schierabinieri, le caritas, le parrocchie e stiamo vedendo se accoglierli nei nuclei familiari, intanto bisogna sapere quanti sono, come arrivano, dove arrivano se hanno rapporti diretti con i loro amici, le loro famiglie già esistenti e poi stiamo individuando anche dei luoghi sulla base della richiesta che ci sarà insieme a tutte le associazioni del volontariato, insieme alle parrocchie, alle caritas, a tutte le associazioni del volontariato per capire se e che cosa possiamo fare, perché non è che noi possiamo mettere a disposizione gli alloggi popolari che hanno i loro gradatori, l'accoglienza avviene, probabilmente avverrà attraverso i nuclei familiari alle disponibilità dei nuclei familiari, quindi stiamo valutando insieme alla prefettura insieme a tutti gli assessori che hanno competenze diverse fra di loro insieme a tutti gli altri comuni, non solo Pesero, Fanno, Urbino e Vallefoglia ma tutti i comuni che possono dare la disponibilità a ospitare tutti quelli che fuggono dalla guerra sperando che la guerra termini Il prefetto ha detto che sono stati individuati 80 alloggi, il comune di Vallefoglia ha pressoché quanti ne ha individuati? Se arrivano 80 persone che hanno necessità di essere collocate, si tratta di vedere dove collocarli se per esempio ci sono, a me alcuni hanno chiesto, hanno dato la loro disponibilità ad accogliere delle persone quindi si tratta di vedere se questi 80 arrivano, come vengono distribuiti nei comuni e come ospitarli